Sono stati consegnati questa mattina i lavori per il sottopasso ferroviario di Pestum, un'opera attesa da anni che adesso diventerà realtà. Nessuno ci credeva e senza invincimenti dico pure che è stata la procedura amministrativa più complessa che ho affrontato nella mia vita. Ma ovviamente non è un merito mio, è un merito che va scritto a tutti, alla sovrintendenza, alla Regione Campana, al Presidente De Luca e al Consigliere Cascone per il finanziamento, all'Ufficio Lavori Pubblici, tanti professionisti che hanno collaborato, le persone che hanno subito gli espropri, che hanno ceduto volontariamente, quindi hanno ridotto il tempo delle procedure espropriative. Quindi siamo davvero soddisfatti, oltre a migliorare la mobilità, l'accessibilità al parco archeologico, è una ripresa anche di fiducia. Oggi per accedere aria nord al parco archeologico si attraversa tutto Capaccio Scalo, la frazione Borgo Nuovo, invece da qui si accede direttamente e soprattutto si dà anche visibilità e valore alla stazione di Pestum con il suo parcheggio retrostante che prima era inutilizzato. Abbiamo adeguato il progetto alle attuali normative e abbiamo avviato immediatamente da un lato con il Presidente De Luca il finanziamento e dall'altro la procedura di conferenza di servizi che non è stata banale, visto l'area in cui ci troviamo e i particolari vincoli che abbiamo. Adesso oggi partiranno finalmente i lavori, è un'opera che cambierà il volto anche di Pestum, nonostante in questi mesi e in questi anni con il lavoro del Sindaco Alfieri è stato già fatto tantissimo ma questa viabilità consentirà sicuramente dal punto di vista del traffico e della qualità della mobilità di migliorare significativamente. Questo è un intervento molto complesso, è decisamente stato un intervento atteso ma muterà radicalmente la fruizione. Noi abbiamo sempre avuto ovviamente dei flussi turistici, soprattutto nella stagione primaverile e estiva, molto alti. Ci sono sempre state delle criticità ovviamente nei collegamenti con le grandi città e questo progetto, un progetto appunto molto complesso, renderà molto più semplice ovviamente arrivare all'area archeologica. Quindi io sono molto felice, sono estremamente grata anche alla città di Capaccio Pestum per aver insistito e aver lottato appunto per un progetto di questa portata in collaborazione con la soprintendenza. Questo davvero è stato il risultato, come dicevo, di un progetto complesso e che ha visto interagire diversi enti territoriali, regionali. Quindi da parte nostra, da parte dei parchi archeologici di Pestum e Velia, una grandissima soddisfazione e anche molta curiosità di vedere realizzare questo progetto quanto prima.